Il corso per diventare istruttori In questi 5 giorni stiamo facendo delle prove tecniche, delle prove fisiche, delle prove teoriche per assicurarci che il loro livello sia tecnico sia fisico, sia di coaching sia sufficiente per essere poi certificati come coach Il parkour è un'attività molto delicata su questo aspetto quindi per insegnarla bisogna essere sicuri che le proprie capacità siano sufficienti sia a livello fisico sia a livello tecnico e soprattutto a livello teorico I ragazzi in questi giorni stanno vedendo tutte le prove dell'esame stanno facendo anche un po' di più di quello che serve per essere sicuri che potranno passare l'esame a pieni voti e avranno tutta l'estate per prepararsi, principalmente fondamentalmente e a settembre poi ci sarà l'esame in cui verranno testati fisicamente, tecnicamente e teoricamente su tutti i vari aspetti che coinvolgono la nostra disciplina Il ruolo della Wisp all'interno del movimento del parkour italiano è sempre più importante? Beh assolutamente sì perché in realtà grazie alla Wisp tutte le varie famiglie di parkour che c'erano precedentemente si sono unite e grazie alla Wisp all'ho trovato un ottimo contenitore in cui puoi sviluppare questi tipi di momenti che sono i momenti in cui si può crescere tutti insieme e essendo poi Wisp sport per tutti non c'era nessun altro contenitore migliore di questo perché il parkour è assolutamente aperto a tutti, non è competitivo, non ha bisogno di gare, di niente quindi chiunque può farlo, sport per tutti, parkour per tutti Sostanzialmente questo metodo di insegnamento è preso dal metodo inglese quindi ci sono tante sessioni pratiche e dopo ci sono dei momenti di discussione a seguire le sessioni pratiche e si prova a tirare fuori dai partecipanti con le più informazioni possibili e provare a rendere questo, è un tipo di insegnamento molto condiviso quindi nel momento in cui i partecipanti non sanno qualcosa tutte le nozioni vengono integrate dall'insegnante ma in alternativa vengono tirate fuori dal gruppo che è il più possibile quindi abbiamo parlato di metodi di insegnamento, stili di insegnamento sì appunto metodi di coaching le tipologie di feedback che ci possono essere, il cueing quindi sostanzialmente gli indici che si devono dare per far migliorare una persona quali possono essere i macro temi da sviluppare all'interno della disciplina del parkour piuttosto che semplicemente un accumulo di tecniche un ottimo appuntamento di formazione è anche un passo molto importante che siamo riusciti a raggiungere è un momento di condivisione molto alto tra tutti i praticanti e è una bella cosa anche per tutta la comunità italiana di avere questa opportunità qua da noi ecco il parkour WISP è in crescita su tutto il territorio mi pare proprio di sì, visto anche il numero di partecipanti e il gruppo che si sta formando adesso di nuovi formatori di nuovi operatori direi decisamente di sì questi ragazzi vengono un po' allo studio d'Italia? in tutta Italia abbiamo Sicilia, Emilia Romagna, Puglia, Toscana dappertutto insomma e sì da quando la nostra associazione è diventata delivery center di questa certificazione che si chiama ADAPT grazie anche a WISP questo è il primo gruppo così numeroso di insegnanti a livello mondiale ADAPT è una certificazione che a livello mondiale viene riconosciuta quindi è molto importante che ci siano 20 partecipanti qui oggi in Italia per la prima volta